bravo shhhh dai beh di fronte di questo arbitratto devo dire che proprio mi sento scandalizzato i ragazzi se l'hanno messo tutta però ripeto io sono proprio rattristato da questa situazione e di cui la società mi ha dato grande fiducia e questo è importante per tutti quanti noi pensiamo solo a lavorare e cerchiamo di fare il meglio possibile un saluto a Marco Materazzi mi piaccia mi piace ricordare comunque l'ho allenato penso di averlo lanciato io qualche anno fa e qui una situazione del mondo un po' di soddisfazione funzionale e ce la voglio ahahahah